C'è una vicenda negli Stati Uniti che unisce verità e spettacolo. È la saga della famiglia Giudice, si tratta di Joe e Teresa, quest'ultima protagonista del reality The Real House Wife of New Jersey, seguito da milioni di spettatori dal 2014. I due originali del Vallo di Diano hanno scontato alcuni anni di carcere per reati fiscali e Joe Giuseppe Giudice è stato espulso per problemi burocratici. Questo ha fatto scattare una petizione in suo favore e numerosi programmi televisivi con milioni di spettatori attaccati allo schermo per scoprire l'evolversi della situazione. E nella giornata di domenica, durante l'ennesima puntata, Joe si è collegato direttamente dall'Italia, o più precisamente da Sala Consilina, dove vive nella casa di alcuni parenti. Ha fatto anche richiesta di documenti nel comune valdianese per il domicilio e l'iter è in atto. Qui sto bene, ha detto Joe, anche se la mia vita è completamente cambiata.